Ma per un minuto mi prendo la parola per rispondere a Gennaro Lombino. Gennaro, noi siamo gli unici in una coalizione senza condizionamenti, per cui... ...per migliorare il territorio e per dare occupazione ai nostri concittadini. Perché la parte della amministrazione mondiale non è manca l'assunto nessun modo. A di fuori dei grandi, siamo con la scuola della parte. La parte di noi, insieme al suo management, poi compriremo ciò che tutti vogliamo, cioè che il cattore abbia occupazione, esotia e abbia sviluppo. Il cattore abbia occupato, perché il cattore abbia occupato, perché il cattore abbia occupato, a questo punto, credo di una massima di storia, sicuro che sia il panorama dei risultati. L'importante è... E lo so, sorella, ma purtroppo... Per fare certi maccheroni bisogna anche cucinarli. Quindi bisogna avere la pazienza prima di manciarli, prepararli. Non si può fare, come si dice a Napoli, con chiare i pancini. Quindi è importante resonare avanti. Allora, io volevo dare la parola all'onorevole Cetaro. Grazie. 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 Grazie a tutti.